Massimo Giletti sulla 7, ecco quando andrà in onda Massimo Giletti sulla 7, ecco quando andrà in onda nella prima serata di La 7. Sicuramente Massimo Giletti è stato uno dei personaggi televisivi più discussi dell'estate 2017. Ancora si sta parlando di lui per via del fatto che non ha debuttato in televisione ma lo farà molto presto. E ormai cosa nota al pubblico che il conduttore giornalista, in onda per anni nelle reti Rai, in particolare con la sua arena, programma campione di ascolti, si è passato alla 7. Non era ancora stato comunicato però che fascia oraria sarebbe andato a coprire, se in daytime o in prima serata. Il direttore di La 7 ha pensato bene di affidare a Massimo Giletti la prima serata del mercoledì, rimasta orfana di Gianluigi Paragone e il suo programma La Gabbia, che non ha mai sfondato nel pubblico televisivo. Per Massimo Giletti sarà dunque una grande sfida. Il conduttore, oltre ad aver cambiato rete, passando dal Rai 1 alla 7, ha anche cambiato fascia oraria. Il pubblico che lo seguiva era abituato a stare in sua compagnia nel primo pomeriggio della domenica. Dal prossimo mese invece i fans lo ritroveranno in prima serata, oltre che in un altro canale. Massimo Giletti andrà in onda il mercoledì sera sulla 7. Per Massimo Giletti la prima serata non è una novità, lo scorso anno è stato più volte protagonista del sabato sera di Rai 1, vincendo le varie sfide che gli si sono poste davanti. Questa però sarà la prima volta in prima serata con un programma di politica e non di intrattenimento. La 7 tenta ancora di puntare su trasmissioni politiche anziché variare il proprio palinsesto. Nonostante molte voci lo davano come conduttore della domenica pomeriggio di La 7, oggi, attraverso la pagina Facebook di Massimo Giletti hanno fatto sapere che le cose non stanno così. Massimo Giletti, prossimamente. Dicevano i latini, Sineira et Studio. Per ora, soprattutto, Sine Studio. Grazie a tutti.